3-3-7-110 Pronto? No, no, vedela, non male Pronto? Pronto Claudio? Sì Claudio? Sì, chi è? Riparti Claudio, per favore Come? Dai, non so questo un po', riparti Claudio Passami Claudio Sono Claudio Riparti Claudio Guardi, sono Claudio io Buffa Claudio, passami Claudio Signora, lei mi sta sbagliando un uomo Claudio Claudio Dottor Claudio Claudio Poi? È pronto? Pronto? Sì Claudio? Ma chi cerca? Chi cerca? Uffa! Claudio, basta di Claudio! Signora, lei, ma chi cerca? Non capisco chi cerca! Basti Claudio! Ma... Per favore, Claudio, devo parlare con Claudio! Claudio chi? Come il cognome? Sunti, basta Claudio! Mi basta Claudio! Sunti! Signora, guarda, signora, io non la conosco! Io non la conosco, l'ha capito? Basta la Claudio! Stronzo! Ma chi è? Ma chi sei? Scusami, eh! Chi sei? Claudio! Ma chi sei? Scusami, è un corso! Ciao!